ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in tutto questo periodo di quarantena quindi tutto questo periodo che stiamo a casa ho pensato poteva essere carino realizzare un video con altri miei colleghi bassisti facendo una vera e propria gemme ma più che gemme ragazzi un video per la pura e semplice voglia di potersi divertire poter stare insieme visto che diciamo per le varie restrizioni è costretto a stare nelle proprie abitazioni ma bando le ciance buona visione e 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 ok ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate tanti commenti tanti like e seguite gli altri bassisti nel link qua sotto in descrizione ho lasciato tutti i loro contatti dai e sempre ci vediamo nei prossimi video